Sapevi che Sultan nella vita reale nel 2021 ha scoperto di avere una brutta malattia? Ecco qualche interessante curiosità di cui forse non si è ancora a conoscenza su Uliad Uyash. L'attrice di My Home My Destiny è nata il 26 giugno del 1970, quindi è del segno del cancro ed ha 54 anni. Nel 1978, quando aveva soltanto 8 anni, si è trasferita con la sua famiglia in Germania, dove ha trascorso la sua infanzia ed anche gran parte della sua giovinezza. Una volta ultimati gli studi, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del teatro, ma non come attrice, bensì come parrucchiere e truccatrice. Infatti ha cominciato a recitare soltanto nel 2000, sia sul piccolo che sul grande schermo. Tuttavia, tuttora continua ad occuparsi del trucco di scena. Nel 2021, ha scoperto di avere un tumore al cervello. Al momento, non è noto se sia sentimentalmente impegnata oppure se sia single, né tantomeno se abbia o meno dei figli. Sul suo profilo Instagram, infatti, non sembra esserci traccia né di un partner né di figli. E tu che cosa ne pensi di questa attrice? Ti piace? Diccila tua con un commento e se ti va, seguici su tvdaily.it Ottonio Iscriviti Grazie a tutti.